Omega Speedmaster Deidat, eleganza e funzionalità incontrano l'avventura L'orologio da polso Speedmaster Deidat rappresenta un'armoniosa fusione di eleganza senza tempo e funzionalità avanzata. Il nome Speedmaster è sinonimo di eccellenza e affidabilità, nato dall'ispirazione delle missioni spaziali e dalle esigenze di chi cerca l'orologio perfetto. Lo Speedmaster Deidat rappresenta una delle gemme dell'iconica famiglia di orologi Omega Speedmaster. Il design distintivo dello Speedmaster Deidat è riconoscibile a prima vista. La lunetta con scala tachimetrica e il quadrante con marcatori luminescenti catturano l'attenzione. Tra le complicazioni visualizzabili sul quadrante dello Speedmaster Deidat abbiamo il cronografo su due subquadranti, il calendario perimetrale con una quarta lancetta centrale che indica la data, il calendario annuale nel subquadrante cronografico dei minuti con due finestrelle che indicano il giorno e il mese a ore 12, la fase lunare all'interno del subquadrante delle ore cronografiche a ore 6. Abbiamo anche la funzione giorno-notte all'interno del subquadrante dei piccoli secondi a ore 9. Dotato di movimento meccanico automatico di alta qualità, questo orologio offre prestazioni impeccabili e affidabili. Il fascino dello Speedmaster Deidat ha attirato l'attenzione di molte celebrità e icone di stile nel corso degli anni. Indossato sia in eventi formali che casual, questo orologio rappresenta uno status simbolo e uno stile senza tempo per coloro che lo indossano. L'eredità di qualità dell'orologio Speedmaster Deidat si riflette nelle sue prestazioni resistenti. Acquistare uno Speedmaster Deidat significa investire in uno stile senza tempo e nella precisione di un orologio di alta qualità. In conclusione, lo Speedmaster Deidat è molto più di un semplice orologio da polso, è un simbolo di eleganza intramontabile e funzionalità avanzata. La sua storia illustre, il design iconico e le prestazioni affidabili lo rendono una scelta ideale per chi cerca l'armonia tra stile e utilità. L'orologio Speedmaster Deidat è un testimone di un'eleganza senza tempo che si sposa perfettamente con la moderna ingegneria dell'orologeria, incanalando la passione per l'avventura e l'arte dell'orologeria in un unico e affascinante pacchetto.